E ciao ragazzi, benvenuti su un altro episodio sul mio canale E oggi vi parlo dei dislike Un po' che non parlo dei dislike ragazzi Prima di iniziare questo video vi invito a lasciare un bel dislike al video Così che lo guardiamo assieme E ragazzi, in tanti ne parlano onestamente, altri invece no Alcuni ne parlano seriamente, alcuni non ne parlano Il sistema di valutazione di YouTube è molto preciso Ecco, come preciso cosa intendo? Che si può valutare il video con un like o con un dislike Molti YouTuber associano questo meccanismo ad un sistema di voti Ovvero se vi piace il video, effettivamente, ovvero se il video va bene così com'è Lasciate un bel like Se il video non va bene, volete che cambi qualcosa, lasciate un dislike Però questo ho notato che è uno degli aspetti Che ha preso piede veramente in maniera assurda Nel senso, praticamente quasi tutti gli YouTuber fanno così Ma questo non vuol dire che non si possa fare il contrario Infatti se io vi dico lasciate un dislike al video oggi Perché voglio che voi ragazzi lasciate un dislike E indipendentemente dal contenuto Ovvero a me non interessa niente se a voi il contenuto piace o meno Perché il sistema di valutazione di YouTube è così Ovvero non importa a YouTube se il contenuto piace o meno Ma è solo un'associazione che facciamo noi YouTubers al nostro pubblico Per fare questa cosa Molte volte si è associato il concetto di bullismo addirittura A questo like e dislike E siamo arrivati a dei livelli assurdi Ovvero se ti lasciano i dislike sei bullizzato Cioè se ti lasciano i dislike ti stanno lasciando visibilità Questo è il punto chiave Che ci sia tanta gente arrabbiata ok E va bene questo succede perché molte volte Non molte volte posso dire in alcuni casi Non ho fatto ricerche Lo ammetto non ho fatto ricerche però vi dico questa cosa Ad esempio YouTubers con alti numeri di dislike sono poi arrivate minacce Non posso confermare questa cosa non ho fatto ricerche Ma da quello che ho capito di recente da varie situazioni Potrebbe essere tutto falso però Sono arrivate minacce quindi Il sistema di YouTube l'algoritmo Le valuta queste cose ovvero il fatto che arrivino effettive minacce Al punto di lasciare dislike Non lo so perché Se il dislike viene associato al bullismo E col bullismo arrivano minacce Non va fatto un cambio di algoritmo secondo voi con questa cosa Perché non lo so O la smettiamo noi di valorizzare i dislike In maniera tale che nascano proprio effettive minacce E poi perché dire Eh ma quello YouTuber è stato preso di mira Di dislike sotto tutti i video Ragazzi i dislike sono posizionamento Posizionamento esattamente come i like Ma non lo so Ci vuole un cambio di algoritmo secondo voi Oppure secondo voi è tutto normale Cosa ne pensate Vorrei un bel commento insieme a un dislike oggi Perché io sinceramente non mi faccio problemi a dire Che se vedo tanti dislike non mi sento bullizzato assolutamente Però se vi dico anche chiaramente Che il metodo di valutazione degli YouTuber Sta esagerando Nel senso si sta esagerando Quando si sta praticamente dando troppo peso Ai dislike in maniera tale che li si associa al bullismo Ecco questo forse Ok Forse è il mio pensiero Ecco cosa ne pensate voi Adesso ragazzi forse vi chiudo il video qua Non ho molto altro di cui parlare oggi Volevo proprio focalizzarmi su questo aspetto di YouTube Più che altro anche perché con questa nascita di canali Di critica Diciamo nell'ultimo anno Diciamo che molti canali in tendenza Sono stati di rant O Di Exposed Dissing O cose del genere Molti di questi video Nascono anche Dicendo tipo Eh ma non dovete andare a lasciare Dislike ad altri canali Allora ragazzi Stiamo parlando di una feature effettiva di YouTube Non stiamo parlando di bullismo Qui e qui è molto chiara la fazienda Nel senso Se io dico lasciate Andate a lasciare un dislike a un altro YouTuber Vuol dire che gli state dicendo Andate a dare posizionamento a quell'altro YouTuber Che non vuol dire insultarlo Flame O cose del genere Semplicemente un dislike E non lo so ragazzi Sinceramente non lo so neanch'io Se andrebbe a questo punto cambiato l'algoritmo di YouTube O se andrebbe mantenuto così com'è Adesso cosa sto succedendo? Sto anche morendo qua Non ho nessun problema A dire Like o dislike Nel senso Non lo so Dal Dall'algoritmo effettivo che è Che c'è di YouTube adesso Se mi arrivano i dislike Ok Dopo 4 anni passati a fare video Posso dire che Un like o un dislike Anche avessi 50.000 dislike E dico sono un numero pesante Forse non mi preoccuperei Mi preoccuperei per le minacce Per gli insulti Per gli insulti pesanti Gravi Ma se io vedo 50.000 dislike E il mio video È Fair use Ovvero Non viola le linee guida di YouTube Perché questo deve essere associato a bullismo? Non lo è È semplicemente un voto Che tra l'altro Dà posizionamento ai video stessi E niente Tutto qua ragazzi Cosa ne pensate ancora? Voglio Voglio dei pareri nei commenti Perché Veramente questa situazione È di fondamentale È chiave fondamentale Per il canale Perché io sto pensando Nel senso Nell'arco dell'ultimo periodo Ho chiesto molti like Nei community Nei video Quindi ho condizionato La mia community A A votare Nel senso a votare Posizionamente Verso la positività Ma perché semplicemente Io ho associato La positività Ai like Invece che ai dislike Potrei aver fatto il contrario Se all'inizio del canale Quando aprivo il canale Continuavo a dire Ad ogni video Ragazzi Lasciate un bel dislike Per far posizionare il video Ogni giorno Non so io come sarebbe andata a finire Dopo 4 anni di video Però avrei condizionato Il mio pubblico comunque A pensare Che quel tasto Fosse qualcosa di negativo E oggi ragazzi Io voglio parlare E esprimere il mio pensiero Sono Fortemente Ho delle Ho in testa Sono Ho delle Ho dei ripensamenti Sul fatto che io abbia Chiesto così tanta Positività Alla mia community Che poi Più che positività È semplicemente Un pollice In su o in giù È un apprezzamento Diciamo Però Sono anche Non sono Completamente Convinto Che chiedere Così tanta Positività Sia stato giusto Nei confronti Del mio canale Più che giusto Sia stato positivo Di per sé Nel senso Magari Chiedere più negatività E tenere il bilanciamento Tra positivo e negativo Forse sarebbe stata Una Nell'insieme Un Qualcosa di più Positivo Per il mio canale Cosa ne pensate Fatemi sapere Al prossimo video Positività Positività Grazie a tutti.